Comeriggio dalla redazione di Telequattro. Sono stati presentati stamane i referendum dei radicali ai quali aderiscono in parte anche altri partiti e movimenti. I banchetti per le firme sono già attivi. Vediamo. Riparte la battaglia referendaria radicale e raccoglie, seppure con alcuni distingo, le adesioni di altri partiti quali SEL, Rifondazione e Socialisti. Cinque temi e sei quesiti vengono proposti dall'iniziativa denominata Cambiamo Noi. La libertà di scelta sulla destinazione dell'otto per mille, l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, il divorzio breve, niente carcere per fatti di lieve entità della normativa sulle droghe e due quesiti contro il reato di clandestinità e la precarizzazione dei migranti. La cattiva politica non si combatte con il menefreghismo ma con l'attivismo, quindi le proposte sono cinque in sei quesiti, che si sia d'accordo o no è un gesto di responsabilità e civiltà andare a firmare e poi andare a votare per superarlo il quorum. Facciamo capire la politica che vogliamo dire la nostra, mettiamogli il fiato sul collo, facciamoci sentire. Mi sembra che sia un'occasione di rimettere in gioco tutta la cittadinanza su questioni che evidentemente latitano all'interno del Parlamento, si leggifera su tutto, si leggifera in emergenza ma non si leggifera poi sui diritti e sulle questioni concrete che invece toccano i cittadini ogni giorno.